Noi vogliamo farvi ascoltare questo suono, che loro non sentono, ma a cominciare dal loro cuore che batte. Il suono è questo. Non lo pensiamo mai, ma questo suono ci tiene in piedi per tutta la nostra vita. Questo suono l'abbiamo voluto perché per presentarvi Massimo Iondini, collega, giornalista e uomo per bene. Ben arrivato Massimo. Allora, è un collega più vicino di così, non potremo averlo perché è giornalista e firma del quotidiano Avvenire. Il cuore è il contenitore della vita stessa, è l'albergo dell'anima. Noi ci siamo sentiti telefonicamente, caro Iondini, così vi mettiamo a pari anche di questa storia, un po' di anni fa e tu mi hai raccontato la tua straordinaria storia di trapiantato di cuore e l'hai raccontata così bene che io ti prego di replicare per il pubblico dell'Ora Solare. Allora, è stato quello che io considero il momento topico della mia vita. Ho vissuto esperienze come tanti, il matrimonio, la laurea, la nascita dei figli, però questo evento, senza nulla togliere a questi importantissimi passaggi della mia esistenza e di molti, però il trapianto di cuore, quindi la perdita del proprio cuore, la sottrazione di questo organo vitale, essenziale, fondamentale, è quello che col suo tum tum ci fa segna alle nostre giornate, è il pendolo della nostra quotidianità. Perdere il cuore è stato per me all'inizio inaccettabile, quindi all'inizio quando mi è stata prospettata questa ipotesi ineludibile, cioè per poter continuare ad andare avanti dovevo appunto ricevere un cuore che non fosse mio, un cuore nuovo. Un cuore nuovo o un usato sicuro e quindi questa ipotesi mi era intollerabile. Perché Massimo ti era intollerabile? Perché ritenevo che fosse un'irruzione nella mia persona troppo potente, troppo invasiva, innaturale. E quindi ho fatto di tutto negli anni in cui stavo male, stavo malissimo, perché se si arriva a un trapianto di cuore è perché... Tu lo racconti questo, cioè è iniziato con una debolezza che poi è diventata sempre più forte, che poi è diventato sentirsi dire questo cuore va cambiato. L'albergo dell'anima che tu citi, no? Prendendo a prestito un'immagine orientale anche, però... Per carità. Poi ci hanno detto che non è vero, ma noi continuiamo a ritenere che nel cuore... Poi ci hanno detto che non è vero. No, non si inda coè per carità, i grandi scienziati... Scientificamente può non esserlo, ma... Scientificamente può non esserlo, però quel cuore contiene tutto, no? Del resto, ogni nostra emozione si riflette nella risposta che il cuore ci dà, no? È vero. Rallenta, si rianima, batte forte... Batte forte. Addirittura a volte anticipa ciò che deve succedere. È preveggente il cuore. È preveggente. E lasciare questo tuo cuore dovevi farlo? Dovevo farlo, mi era stato annunciato anche in modo un po' brutale, peraltro ero ricoverato da diversi giorni, ero stato sottoposto a tutti gli esami del caso, perché la mia funzionalità cardiaca era ai minimi, proprio, i minimi sindacali e insindacabili, tradotto in termini cardiologici, aveva una frazione di iniezione del 14%, il massimo non è il 100%, è il 70%, quantificato così, non è l'unico parametro importante. No, però dice che il cuore fosse una sofferenza totale. Esatto. Tu mi raccontavi di non avere la forza a volte di muovere le braccia sotto la doccia, di non arrivare al telefono, cioè di vedere la distanza tra te e il telefono di casa. Misuravo le distanze che dovevo percorrere anche all'interno della mia abitazione o al giornale, perché comunque io continuavo ad andare al giornale, tranne nei periodi peggiori, quando proprio non avevo le forze. Per cui se si trattava di dover percorrere qualche metro, prendevo prima le misure mentalmente per caricarmi energeticamente, per vedere di farcela. Era, nei momenti peggiori, era difficile veramente passare dalla sedia al divano o viceversa. Questo episodio della doccia è emblematico, il momento più rigenerativo che abbiamo nella giornata è quello di essere inondati da questa acqua che ci deterge e ci rilancia. E io non riuscivo, per esempio, a farmi lo shampoo. Solo alzare le braccia e frizionarmi il cuoio capelluto era un'impresa. Ansimavo. Quello mi dava proprio la misura delle condizioni in cui ero finito per via della debolezza del cuore. Massimo Iondini, una moglie meravigliosa, due figli splendidi, tanta fede, tanta voglia di vivere, tanta sicurezza, ma anche ad un certo punto, quando capita e succede una cosa che Massimo non si aspetta che possa capitare, c'è il crollo, crollerebbe chiunque, però lui è qui. Ce lo racconta tra un attimo all'ora solare. Grazie a tutti. Un attimo. Oggi stiamo parlando di ricevere una nuova vita, stiamo parlando di trapianti. Dedichiamo questa puntata a tutte le persone che hanno donato, ai loro cari che non ci sono più e hanno potuto donare anche per questo, a chi è stato trapiantato e sa di aver aperto un capitolo completamente nuovo della propria esistenza. Massimo Iondini è una splendida firma dell'avvenire ed è una splendida persona che finalmente è qui in studio con noi. Allora, la sofferenza cardiaca, tu scrivi ancora, è la sofferenza dell'anima. Arrivi ad un certo punto in cui sei nel letto d'ospedale ed è l'istante... Come sono quegli istanti in cui ti dicono no, non mangi oggi, rimanga digiuno perché oggi potrebbe essere il giorno? Eh, questo mi è capitato due volte. Due volte? Due volte. Era... Ero ricoverato ormai da un mese nel 2013. Tra l'altro casualmente o forse no, compio dieci anni anni, di trapianto tra pochi giorni. Per cui... Che bello. Quindi era diverso dieci anni fa? Sì, era molto diverso. Io aspettavo veramente come la manna dal cielo questo momento che è arrivato la sera di sabato 2 marzo di dieci anni fa. Ero nel mio letto d'ospedale, stanze singole che nel caso di un hotel può essere un privilegio. Nel caso dell'ospedale non lo era perché la privazione anche di una relazione quotidiana, un dialogo, due battute con un eventuale compagno a distanza lì era precluso, impedita perché essendo io in alta intensità, questo reparto era appunto all'alta intensità perché ospitava o quelli prossimi al trapianto, quelli che stavano comunque molto male o i neotrapiantati. Quindi ero da solo. Non avevo nemmeno il televisore, che è un bel intrattenimento. È di aiuto. Quindi ho anche il privilegio di compiere il mio compleanno da trapiantato con il compleanno dei dieci anni di pontificato del Papa. È una soddisfazione ovviamente solo mia. Ma è una grande soddisfazione. È una grande soddisfazione. Quella sera, erano circa le dieci, entra una cardiologa e mi guarda e mi dice «Iondini, come sta?» «Bene, per quanto si possa stare bene. Allora, non si preoccupi, stia tranquillo». Già sentirsi dire «stia tranquillo», agita. «Potrebbe essere arrivato il cuore per lei». E quindi io ho aspettato. Dopo un'oretta circa vedo entrare nella stanza un'infermiera armata di rasoi perché si deve essere depilati ovviamente prima di entrare in sala operatoria. Questo vale per qualsiasi intervento. Inizia questa pietosa opera. Se non che dopo pochissimi secondi arriva, penso, la stessa dottoressa. Io non l'ho vista perché era fuori dalla stanza in corridoio. e ferma l'infermiera e dice «No, non è per lui». Perché, sapevo già, però me ne sono reso conto in quel momento, vengono sempre allertate almeno due persone, due aspiranti al trapianto perché può succedere qualsiasi cosa. Uno può anche, un trapiantando, può anche non stare bene. e l'ho saputo dopo, era stato allertato e poi effettivamente trapiantato un mio carissimo amico che conoscevo da più di un anno perché avevamo trascorso dei periodi in ospedale assieme e le amicizie in ospedale, se si sta abbastanza bene per poterle vivere e saperle vivere sono superiori a quelle del militare, per chi l'ha fatta. Sì, bravo, bravo, hai ragione. Perché, beh, militare è in tempo di pace, se è chiaro. Certo, certamente. Però quella è una trincea, eh? È una trincea. È una trincea dove si mettono in comune le sofferenze. Non c'è niente di più unitivo, di sofferenze condivise. Questo cuore che era destinato a te... È andato a lui. È andato a lui. Però, dopo soli tre giorni, purtroppo lui è morto. C'è stata una complicazione in sala operatoria. Lui era al secondo trapianto. E quindi questo fatto così disperante ha provocato in me un vero e proprio tracollo psicofisico, emotivo per la perdita di un amico. Sognavamo insieme, quando ci parlavamo, di festeggiare insieme il dopo, di andare a fare delle gite con le nostre famiglie. Lui ha due figli che erano piccoli allora, come i miei, più o meno. E quindi c'era proprio questa prospettiva di vita insieme, di questa ulteriore passeggiata terrena. E invece non è stato così. Io ho avuto comunque un tracollo tale da avermi portato a una debilitazione degli organi vitali più importanti. I reni, il fegato, i polmoni. I miei valori ematici, perché vengono misurati così, con i quotidiani esami del sangue. Si era inceppata la macchina. Si era un po' inceppata la macchina. Quindi correvo il rischio, serissimo e gravissimo, di compromettere il sufficiente grado di efficienza dei miei organi nobili. Perché comunque... E il resto del corpo deve stare bene quando fai un trapianto. Deve stare sufficientemente bene per poter affrontare un intervento come il trapianto. Tu qui subisci una... Allora, ti viene annunciato che dovrai essere attaccato ad una macchina. Sì, questo è un episodio tragicomico, nel senso che... Perché poi ho sempre... Apro una piccola parentesi. Anche in quel lungo periodo di degenza, sono stato prima del trapianto 50 giorni in ospedale, ho sempre cercato, nei limiti del possibile, di essere leggero, di guardare un po' di sguincio, in modo un po' obliquo, la mia vita. Come se la osservassi anche un po' dal di fuori, no? E questo mi è servito molto. E così quando una mattina, il giorno dopo la festa del papà, vennero il primario e il vice ad annunciarmi che purtroppo dovevano trasferirmi in unità coronarica, perché ero peggiorato, e doveva essermi attaccato una macchina che si chiama contropulsatore aortico, che aveva il compito di stampellare un po' il cuore. Fare il cuore. Fare il cuore. E quindi trasferimento in unità coronarica, era un mercoledì, e vengo preparato, se non che a un certo momento, poco prima che mi venisse effettivamente impiantato questo strumento arriva un angelo vestito di bianco con un vassoio, una minestrina e una scaloppina al limone e me lo porta. E io inizio a sorbire questa minestrina e stavo per affrontare anche la scaloppina quando tornano l'anestesista e un cardiologo che mi guardano disperati. Iondini, cosa sta facendo? Attacco la scaloppina. A un certo punto cuore malandrato, sì, stomaco, no. E non avresti... Cioè, quell'aver mangiato... Certo, perché comunque dovevo essere a stomaco vuoto, ecco, anche se avevo mangiato abbastanza poco, però... Eh, ma poco è già tanto. E quindi l'impianto del contropulsatore aortico era stato rimandato all'indomani. E l'indomani il mio miglioramento degli esami ematici è tale che il primario dell'unità coronarica mi dice ma Iondini io effettivamente non glielo metterei per adesso il contropulsatore aortico perché i suoi valori renali, epatici, eccetera, sono migliorati. Non richiedono in questo momento il contropulsatore. Adesso io sorrido perché penso veramente alla scaloppina fatale nell'accezione più positiva del termine. Scusate se sorrido, ma è bello anche questo, no? Cioè, immaginare che un gesto che non doveva fare gli si ritorca a favore. e quindi non ritorca, cioè gli torni indietro. Queste sono le bizzarrie della vita. Senti, meraviglioso Massimo Iondini, tu, domenica delle palme del 2013, ricevi il cuore di una donna. Sì. E sei qui, dieci anni dopo. Tu hai il cuore di una donna a bordo. Sì. Mi inorgoglisce anche particolarmente questo fatto. Tanto sei carino. È bello, vero? Sì. È bello. No, no, perdonate. Però questo cuore ti ha restituito tutto. Ti ha restituito la tua famiglia. Guardatelo qua. Eccolo qui. Qui di coccole in coccole la tua famiglia faceva di tutto. Eh sì, ero proprio bello. Per te. Ero un nascituro in fondo, un rinascituro. Un neonatino, come amo dire io in questi casi. Un neonatino. E ancora una volta, come la prima volta, ma da inconsapevole, sono rinato da una donna. Chapeau. La prima volta succede a tutti. Nel mio caso, la rinascita ancora grazie a una donna che mi porto dentro. Hai detto, non accettavo l'idea di vedere mio cuore andare via. Adesso, il tuo cuore che batte così bene da dieci anni, ti devi controllare. Tu hai detto una cosa stupenda e lo dice col sorriso. Io faccio colazione la mattina, com'è? Col cappuccino e nove pillole. Ho semplicemente sostituito i biscotti con le compresse. Perché è un lavoro... La vita del trapiantato è un lavoro... È un lavoro anche di contabilità ordinaria. Certo. Donare, Massimo. Donare. Chi più di te può dirlo? Allora, io intanto ho il cruccio che non potrò donare. Perché, ovviamente, sono talmente impasticato che non potrò donare. Ed è un cruccio perché avevo accolto con una gioia immensa il cartoncino blu che ci arrivò a casa, forse 15 o 20 anni fa, e che ci chiedeva di contrassegnare, se volevamo. E io l'ho fatto con grande entusiasmo perché mi sembrava assurdo non farlo. In fondo è un gesto, donare è un gesto così grande che richiede uno sforzo minuscolo. Perché non dobbiamo veramente privarci di nulla. Perché quando doniamo, nel caso di organi unici, perché il re ne sappiamo che si può donare da vivente, uno dei due. Ma in ogni caso è un dono? Esatto. Quando doniamo, prolunghiamo la nostra vita che abbiamo appena perso, terrenamente parlando. E quindi la eterniamo con qualcosa di noi che fisicamente consente a un'altra persona, a un fratello o una sorella, di andare avanti, di prendere il testimone come in atletica e andare avanti. Massimo, io non avrei saputo trovare neanche studiando le parole migliori. Solo che le tue sono più valide delle mie perché sono quelle di un uomo con il grande cuore di una grande donna dentro al petto. E sei stato un tesoro a venircelo a raccontare. Grazie a te. Sei stato un tesoro. Sono cresciuti, non sono mica così piccolini, sono diventati più grandi ovviamente. La famiglia Iondini va, va, prosegue. E Massimo Iondini ha scritto un bellissimo libro, edito da Minerva. Dice che era un bell'uomo, il genio di Dalla e Pallottino. Un libro che dovete leggere, l'audio che abbiamo scelto. Apriti cuore. Perché se non ti dedicavamo questo Lucio Dalla... Magnifico. A chi dedicarlo se non a te? A chi dedicarlo se non a te? Lucio Dalla ha scritto anche una canzone intitolata Trapianto Perso. Trapianto Perso. Signori, quando vi chiedono siete donatori d'organi? Fatelo. Scrivetelo sulla vostra carta d'identità. Scrivete. Donatore d'organi. Scrivetelo. Ve lo ricordate Nicola Sgrin? Scrivetelo. Ve lo ricordate Massimo Iondini? Ve lo ricorderete perché l'avrete visto in questa intervista? Diventate donatori d'organi perché significa vivere per sempre. Grazie a tutti. Bravo Massimo. Bravo, bravo. Grazie. Grazie.